Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Che fissavano il vuoto Sono stato buono ragazzi Sono stato buono ragazzi Sono stato buono ragazzi Ora non mi parto Ma si doveva colo Non è la qualità è che la massima qualità Vedi che vecchio Ma che faggato c'è Eh ma ci faggato pure Ok Basta Ma che faggato Non ti provo così BASTA Ok Ma Ma già Jesus Cristo Ma scherchio Ma È ora di sapere le vostre opinioni però siete avvisati adesso siete avvisati non sbagliate non sbagliate non sbagliate mi raccomando solo time out signori solo time out ma tutti i mod che ho rimesso 5 stabbi ciascuno e stabbi a posto tac figa facci la sà c'è la trafacicci maronna vai giù clippato maronna santa vai giù clippato vai giù clippato eh vabbè dai porco dio porca madonna porco gesù porco dio ma perchè mi devi fare le ste cose salvi a casa a tutti quanti salite col pocaio mannaggia mannaggia la puttana zoccolo mannaggia non c'è quella città ah no gloria si scusami allora provo vai no ma come non conforme ma porco dio ditemelo non 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 clippato de la rifiogina hi 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 just a mano hi 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 ah 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 hi 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 ah 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 hi 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 ah 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 brian black brian black 1039 brian black brian black che c'è condor oh che c'è ma com'è black e brian black penso su una una lambo una coca 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 signori questa è nuova hit clippate va bene su tu qualsiasi bassa ehi fed attacca il bitto frate una lambo una coca una lambo una coca una lambo una coca ma come fa candere mannaggia la maronna ma come fa porco dio come fa mannaggia jesu christo ma faccia f8 quit nasusev r merda ma giocato cazzo stanno mezz'ora candere da qui spacci ma mezz'ora mezz'ora ma che stanno a fa mezz'ora e chiudono sento sei sorda il spirito ricchio la struttura esterna è quella che noi comunemente vediamo quindi l'involucro che è composto la zoccola di tua madre che è ok che è che è che è questa è una bella non riesco a metterlo nel veicolo ora Allontanati Agente Io non ho nulla addosso Perché mi state restando? Sono stato sparato Un attimo Mi scappi Ma non mi sentite